Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è il grande favorito alle primarie del Likud, il maggior partito di destra. I risultati sono attesi in serata. Netanyahu ha deciso di anticipare il voto, alimentando le voci di una sua volontà di procedere ad elezioni generali anticipate. La legislatura attuale dovrebbe concludersi nel novembre del 2013. Lo sfidante più accreditato di Netanyahu è Moshe Feiglen, rappresentante dell'ala più dura del Likud, candidato preferito dalla gran parte dei coloni. Alle precedenti primarie il premier israeliano aveva ottenuto il 75% delle preferenze.